Vento sottile, vento del mattino, vento che scuola. Giornata di festa al centro diurno di Sabili di Piario, dove rispettando una tradizione che va oltre i dieci anni di vita, i giovani allunni delle scuole del paese sono stati i protagonisti al fianco degli ospiti del centro nella raccolta delle patate. Parte con la primavera con la semina della patata e la piantumazione degli alberi da frutto. In autunno c'è la raccolta, è una stagione che si raccolgono i frutti dell'annata, abbiamo raccolto le patate e raccogliamo le mele, le pere, quelle che abbiamo piantato nella primavera. Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione degli insegnanti del gruppo micologico Bresadola di Villa Donia e degli alpini di Comenduno di Albino. Andiamo nelle scuole e cerchiamo di puntare sul discorso ecologico perché abbiamo visto che il nostro territorio si sta degradando e portiamo appunto con i ragazzi già della scuola materna a sensibilizzarli sulla tutela dell'ambiente. L'iniziativa rientra in un contesto più ampio di aperture del CDD al territorio, volte ad incrementare progetti dedicati all'ecologia e alla natura. L'ennesimo incontro di collaborazione fra noi e le scuole e anche la scuola materna. Praticamente ci troviamo oggi a raccogliere proprio la raccolta delle patate che sono state seminate sempre assieme in primavera. Oggi vogliamo raccoglierle insieme, però non solo il momento della raccolta, cioè quando vengono prelevate dal terreno, ma anche poi tutte le altre fasi, un gruppo le lava, un gruppo le spela e poi le mangiamo insieme. E anche questo è un'inesima idea, un po' di convivere comunque un momento carino, piacevole, tutti insieme.